Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti salati al gorgonzola. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa un'ora. Gli ingredienti sono gorgonzola piccante, parmigiano, panna da cucina, farina 00, burro, semi di sesamo, semi di papavero, lievito per dolci e granella di noci. I quantitativi degli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it Diamo in via la ricetta. Iniziamo a tritare il parmigiano, mettiamo all'interno del boccale. Ve lo andiamo a tritare per 10 secondi a velocità 7. Andiamo a mettere da parte il nostro parmigiano tritato. Adesso senza lavare il boccale andiamo a mettere la farina, il burro, il lievito e un pizzico di sale. Andiamo ad amalgamare il tutto per 20 secondi, a velocità 5. Adesso andiamo ad aggiungere il parmigiano che abbiamo precedentemente tritato. il gorgonzola a pezzi e facciamo impastare per 40 secondi a velocità spiga. Il nostro impasto è pronto. Trasferiamolo in una pellicola trasparente e mettiamolo in frigo per 30 minuti. Dopo aver uscito l'impasto dal frigo, adesso andiamo a stenderlo su un piano che abbiamo precedentemente infarinato e andiamo a stenderlo sino a creare uno strato di un centimetro. Adesso utilizziamo uno stampo per ritagliare i nostri biscotti. e successivamente le andremo a spenderlo spennellare con la panna. con l'aiuto di un coltello andiamo a prendere i nostri biscotti e li andremo a posizionare su una teglia che abbiamo precedentemente rivestito con carta da forno. Dopo aver spennellato i nostri biscotti, adesso andiamo a mettere la granella di noci. e poi a piacere andiamo a mettere o i semi di papavero o i semi di sesamo. possiamo decidere anche di lasciare semplicemente solo la granella di noci. Adesso andiamo a mettere in forno a 180 gradi per 20 minuti circa. I nostri biscotti salati sono pronti, andiamo a impiattare. Biscotti salati al gorgonzola. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.